Beh, allora, emissario, emissario mi senti? L'hai preso sto cazzo di sciacchiri? Ancora no? Ma che pensi che io mi accontento così? Che te credi che mi bastano i turbi? Che mi basta questo qui, Ucan? Facciamo una mossa illatante, dai, compriamoci destro. Destro, sì. Come, è già nostro? Beh, ricompriamolo, dai. Intanto, ho detto che il Siena è fallito, vediamo ben 20 milioni, lo facciamo ripartire, dai. Dai, ricompriamo destro, dai. Dai, mi piace, sì, sì, sì. Non vedi di chiudere questo cazzo di sciacchiri, eh. Mi sto dispettendo. Adesso mi accendo una sigaretta. Bene, dammi buona notizia. Ciao, ciao, ciao.